Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi voglio parlarvi dell'ultima grande live fatta su Twitch della Games Workshop che hanno presentato tutti i grandi vari prodotti che stanno uscendo per i loro giochi principali ovvero Warhammer 40.000, Warhammer Age of Sigmar, Adeptus Titanicus, Warhammer Underworlds e poi hanno fatto vedere anche un po' di roadmap per le nuove miniature che vogliono stampare nel corso del 2021. Abbiamo visto un po' di Adeptus Ororitas, abbiamo visto un nuovo box per Kill Team ci sono un pochino di cose di cui parlare ma ve ne parlo a breve dopo la sigla. L'ultima live che hanno fatto su Twitch che si chiamava The Dead and the Divine ora non voglio farvi ovviamente analizzare punto per punto, vi faccio un po' un sunto, una specie di calderone di tutto quello di cui hanno parlato hanno fatto vedere un po' di cose, alcune più belle altre meno comunque vabbè si parla sempre di Games Workshop quindi l'interesse dei fan e dei collezionisti c'è dietro da paura me e mia moglie compresi ma soprattutto anche le miniature sono bellissime quindi anche se ti fanno vedere una miniatura di un esercito che non ti fa impazzire però comunque la qualità è dei livelli altissimi e hanno iniziato a parlare di un po' di cose e hanno fatto una scaletta fra i loro giochi principali di cui volevano parlare, non hanno citato War Cry ad esempio, non è stata citata la season 2 di Blood Bowl anche di quello non hanno parlato ma perché sarà argomento sicuramente di una prossima uscita, una prossima live hanno fatto vedere un po' di cose e hanno iniziato facendo vedere il nuovo titano o meglio ormai si chiamano Cavaliere, per me sono rimasti i titani il nuovo Cavaliere di Adeptus Titanicus che se vi ricordate il Warlord era quello più grande di tutti come dimensioni hanno fatto vedere il Warmaster che è ancora più grande ed è, non vi dico due volte forse troppo ma è una volta e mezzo il Warlord ora se trovo un'immagine ve la faccio vedere qui montata a schermo ed è bellissimo, a parte il pieno zeppo di armi c'ha due fucili laser, no scusate al plasma titanici agganciati alle braccia c'ha i lanciamissili, è corazzato da paura non so quanti punti costerà anche perché non ha avuto ancora il piacere e l'onore di provare una partita adeptus titanicus ma mi garba da morì ed è ancora più grosso quindi laddove il Warlord è il capostipite della vostra armata e il generale ora c'è il Warmaster e anche lì già la gente è impazzita e poi anche come l'hanno fatto è interessante, è bello di forma e tutto poi hanno parlato della nuova banda, una delle nuove bande che stanno per uscire di Warhammer Underwards nell'ultima espansione che poi non è un'espansione della season 4 che si chiama Dire Chasm l'avete visto dove da una parte si vedono combattere Luminet nella scatola base contro il culto e gli adepti di Slanish il dio della lussuria hanno fatto vedere una delle nuove bande che stanno uscendo perché ce ne sono più di una e sono i vampiri finalmente sono tornati i vampiri su Warhammer e Age of Sigmar ma soprattutto sono stati introdotti i vampiri in Warhammer Underwards e hanno fatto vedere questa banda composta da 4 miniature dove c'è un vampiro Conte Duval qualcosa del genere poi hanno fatto vedere una vampira che penso siano marito e moglie e poi un altro vampiro con delle ali grosse tipo mezzo pipisterelle e cose varie una specie di gold, di servo qualcosa che li segue ed è bellissima, la qualità è disumana, sono easy to build quindi si montano senza colla e sono veramente spettacolari vedete dall'immagine la qualità è mostruosa e li vogliono a morire infatti quando la gente l'ha vista e mentre facevano la scaletta parlavano di altre cose la gente, vampiri, vampiri, vampiri ma ora parliamo di Warhammer 40.000, non c'entra nulla allora vampiri, vampiri e alla fine li hanno fatti vedere e la gente veramente è esplosa, contentissimi e questo era il contenuto che hanno fatto vedere per Warhammer Underwards hanno fatto vedere delle nuove miniature per vari giochi tipo hanno fatto vedere le nuove miniature dell'Adeptas Ororitas che finalmente anche l'Adeptas Ororitas che ci guarda a morire l'esercito preferito di mia moglie hanno l'armatura Terminator quindi hanno la loro personale armatura Terminator che più che un'armatura Terminator sembra un po' il power loader quello di Alien che prende Ripley infatti è una struttura anesoscheletro dove l'Adeptas ci monta sopra se riesco un'immagine ve la faccio vedere ci si aggancia e poi da dentro la guida quindi è un'armatura potenziata un'esoscheletro da combattimento armato a fine denti poi hanno fatto vedere un nuovo penso personaggio speciale o qualcosa del genere per Illuminate che la gente rideva in live lo chiamavano Illuminate Kangaroo il Kanguro Illuminate Australiano perché più che sembrare un Illuminate è una creatura strana sembra davvero un Kanguro a parte che ha delle corna lunghe però ha questa specie di maschera e il volto ricorda un po' quello del Kanguro ed è bello perché sembra una volpe ha nove code umanizzata che vola facendosi praticamente librandosi in aria dandosi la spinta con queste code ed ha una freccia che tira ha un arco e tira una freccia è bellissima la posizione e tutto quanto non mi fanno impazzire Illuminate però sono dovrebbero essere tipo i vecchi elfi alti del Warhammer vecchio mondo cioè ce la vedo un po' sforzata cosa senta questa creatura un po' strana però vabbè sicuramente ci sono cose che mi mancano nella lore che non conosco ed è bella come miniatura personalmente Illuminate non li farei non mi piacciono come esecito però la miniatura è veramente fatta bene arriva magicamente ma la parte finale ancora meglio comunque arriva magicamente la nuova scatola la terza scatola di Kill Team dove abbiamo visto che nella prima c'erano gli Adeptus Mechanicus contro il culto del Gene Stealer nella seconda scatola che è quella che io che ci ho offerto la giocola libreria Semana ma tanto un po' dopo vi ricordo a fine c'erano gli Space Wolves da una parte contro i Tau dall'altra in questa nuova scatola fatta a sprecio la devo avere per forza che è un set base con regole aggiornate però occhio è un set base quindi se già avete il set base precedente va bene comunque regole magari leggermente riviste non hanno cambiato niente o pochino aggiornate ci sono gli Adeptus Astartes quindi gli Space Marine Primaris c'è un gruppo di 5 intercessor più il capitano che è mostruoso e dall'altra parte c'è un Cronomancer dei Necron e delle truppe Necron che non mi ricordo come si chiamano non sono i classici robot tipo Terminator ma sono quelli tipo bassi un po' ingobbiti con gli artigli lunghissimi quindi da corpo a corpo spettacolari e questo nuovo set base che vede Ultramarine contro Necron è ambientato in una cripta di Necron quindi lo scenario non è più urban all'aperto ma hanno voluto rifare un po' uno scenario che ricorda Necromunda molto al chiuso dentro questa tomba e infatti dentro allo scenario ci sono magari i muretti le porte da aprire è una fusione fra Kill Team quindi gioco schermaglie veloce wargame che anche un board game perché ci sono anche elementi scenici tipo porte da aprire muri dietro cui nascondersi e la mappa insomma è abbastanza grande e quello sicuramente ci farò un pensiero perché mi interessa molto per quello che c'è dentro anche perché il contenuto è molto importante la gente gli chiedeva da una vita tornate su Warhammer vecchio mondo old world old world vecchio mondo di qua e anch'io ci speravo ci ho sperato veramente tantissimo perché mi sarebbe piaciuto tornare nel vecchio mondo che come ambientazione non vi dico mi piace di più di Age of Sigmar però sicuramente conosco meglio perché ci ho giocato tanti anni e mi ci sono documentato di più ai tempi d'oro anche perché c'era solo quella quindi da lì non scappavi o magari gli dicevano riportate una nuova versione di Mordheim ora onestamente la GW la Games Workshop con Age of Sigmar che li sta andando da paura stanno facendo nuove miniature stanno aggiornando gli eserciti come vi ho detto le miniature che avete visto e tutto non possono riportare fuori il vecchio mondo perché se poi la gente cioè se lo tirano in tasca da soli perché se poi la gente impazzita vuole ricomprare Bretonnia l'impero i nani del caos gli elfi oscuri o comunque vuole tornare a giocare con le miniature del vecchio mondo e poi Age of Sigmar cosa fanno? glielo buttano via non glielo compra più nessuno quindi è una mossa di marketing che potranno fare in due maniere secondo me la potranno fare o a livello di board game quindi fanno un gioco da tavolo tutto quanto ambientato nel vecchio mondo compri finito lì senza espansioni ok oppure fra qualche anno quando magari fra un'altra sette otto anni quando Age of Sigmar sarà un po' arrivata a tetto inizieranno magari a ritirare roba del vecchio mondo così devi ricomprare anche la roba nuova allora a quel punto ci sta ma io fossi uno della gv non mi sognerei mai di rifare il war game dell'old world ritirando fuori i vecchi eserciti perché poi mi va a distruggere l'Age of Sigmar quindi hanno voluto fare comunque contente le persone e hanno fatto un nuovo Warhammer quest che voglio da morire che si chiama Cursed City la città maledetta cosa vi viene in mente di pensare Mordheim e non è Mordheim perché l'ambientazione Age of Sigmar è ambientato nelle terre del caos però hanno fatto questa nuova ambientazione cioè scusate questo nuovo Warhammer quest vi ricordate avevano fatto Shadows over Hammerall ad esempio e quell'altro Silver Tower questa volta invece hanno lasciato completamente da parte proprio tolti completamente per fare contenta alla gente gli Stormcast quindi non sono più loro i personaggi principali e sarete un gruppo dove addirittura hanno fatto vedere una miniatura di un demone o qualcosa di deforme che è bellissimo con una pala una specie di non morto ora non l'ho visto benissimo e dall'altra invece hanno fatto vedere un cacciatore tipo di vampiri un cacciatore di streghe qualcosa del genere che sembra quello di Vermint è bellissimo col cappello da cacciatore di streghe e una multibalista un po' come abbiamo visto nel film di Van Helsing quindi anche quello veramente spettacolare e anche la scritta Warhammer Quest che ci riporta a quello degli anni 90 e Cursed City ricorda anche il font che hanno usato e vi faccio vedere ricorda un po' quello di Mordheim quindi secondo me l'hanno fatto per non dover riportare per forza un prodotto del vecchio mondo perché sicuramente è qualcosa che si terranno più avanti però alla fin fine ragazzi è il vecchio mondo è nell'ambientazione di Warhammer Age of Sigmar ma è chiaramente un grandissimo tributo al vecchio Warhammer Quest e a Mordheim quindi secondo me hanno fatto una mossa strategica ed è quello che vogliono assoluto di più in conclusione hanno fatto vedere in questa live di Dead and the Divine delle bellissime cose e vi ricordo che tutto quello di cui avete sentito parlare che avete visto nella live o in questo mio video sarà ordinabile dal nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola che vedete in sovra impressione e sempre in tutti i video primo link in descrizione quindi aggiornatevi sul sito perché ha tutte quante le uscite e se acquistate dalla Gioco Libreria Semola un qualsiasi prodotto della GV colore board game usate sempre 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 ve lo dirò il codice discount Coridan 7 per avere uno sconto del 7% su tutti gli acquisti e per spese superiori a 79 euro non ci sono nemmeno le spese postali spedizione in 24 ore consegna in 24 48 ore in tutta Europa quindi comunque metteteci anche lo sconto del mio codice e tutto quanto vedete che è un bel servizio se un gioco non lo trovate board game gioco della GV contattate il servizio a clienti Corrado che è il proprietario e gli dite guarda arrivo dal canale di Coridan si potrebbe avere questo gioco anche se non ce l'è in lista farà il possibile per trovarvelo al miglior prezzo sul mercato e anche lì usate sempre il codice sconto mi raccomando insomma è stata una bella live e come al solito la GV non si smentisce mai è partita un po' bassa e poi esplosa alla fine con Cursed City e la nuova scatola di Kill Team ciao ragazzi alla prossima